Stasera a Palermo, seconda partita della Nazionale Azzurra di Calcio per le qualificazioni agli europei del 2016. Di fronte l'Azerbaijan di Berti Fox, ex ct tedesco. Confermate le indicazioni della vigilia con la coppia Zaza immobile in attacco e Pirlo a supportare il centrocampo. Si giocherà con il lutto a braccio per l'alluvione che ha colpito la Liguria.